Stai scherzando? Perché ci sono i ratings che stanno calando? Adesce il metatonex? Posa! E' posato drammaticamente Le... Ah! Le audience annuisce Luce! Camera! Azione! Cosa? No! Violenza! La violenza fa salire il... Check! Ok! Metatonex 8 attacco 1 difesa Il suo punto debole è il suo cuore Nel suo nucleo Drama! Romanticismo! Sangue! No! Ok! Ok! Eh! Ok! Mangiare la spazzatura? Sono l'idolo! Che tutti desiderano! Che a scazzare? Ok! Tau! TàP TauP Oh 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 eh.. Conto caso è il rating? Posa! ok Ok! Sorridi per la videocamera! Aua! Aua! Heel turn? Ok! COME?! Oh, è il momento di un... Mi stanno occupando voglia la mia discussione! È il momento per un quiz! Sam, spero che ti abbia portato la tua tastiera! Questa è una domanda di... Issei? Oddio... Non lo so... Ah! Ok, amo quello di me di più! Oh! Che grande risposta, vero? Che grande risposta! Mettete Issei for your Issei! Ah! L'ha salvata? Sorry! Ok! Perché non ti mostro il mio? Domanda, ma devo colpire il cuore? E devo per forza mangiare la spazzatura! Oh, mi sto appena scaldato! Ok! Sistemati! Cosa fai? Oh! Eh, posa! Ok! Posato drammaticamente... La... La... Il pubblico annuncia! Ma... Come te la chiavi sulla... Sulla pista da ballo! No, fermo! 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 Blu! Blu! Oh mio Dio, si è complicata quella cosa! Eh... Ok! Se... Che non sarei... Ok! Ok! Uff! Ok! Perché buttano con la mia distruzione? Luce! Camera! Bombe! Come luce camera bomba? Oh! Sono indistruttibili! Ok! Ok! Le cose stanno esplodendo! Scherzi! È troppo veloce! Eh... Posa! Ok! È il momento per un... Break! Ah! Sì! Fai una pausa, grazie! Metatone! Cosa fa? Ti vado a met… Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Guarda! É pazzo! È pazzo! È pazzo! É bazzo! Boost… Ok! Che ne dici di un altro cuore a cuore? Sa di Mettaton Devo mangiare il cibo No dai posso resistere No non volevo cercare Braccia? Chi ha bisogno di braccia con gambe come queste? Vincerò comunque Oddio Oh 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 Eh? Scherzi E' andato all'indietro Braccia? Chi ha bisogno di braccia con gambe come queste? Vincerò in qualunque caso Ok di qua ho rotto questo Ho rotto questo Fantastico Ok Ok Andiamo Porca truia Mezzo e tutto a destra Lo show deve continuare Stai scherza spero Ce n'erano due uno dietro l'altro Ok Dramma Azione Troppo dramma e troppo azione qua dentro Oh Posa ok L'u-luci Che camera Ne ho abbastanza di questo Vuoi veramente che l'umanità perisca? O credi solamente in te stesso così tanto? Cazzo Sto sbagliando Oh porca miseria Ho perso il ritmo scusate Eh Porca genere Che ispirante Che cosa è ispirante? Beh Caro Ci siamo solo E ci siamo entrambi E tra me e te Ma Sembra proprio che Ma sappiamo già chi è Chi vincerà Vabbè Il vero potere della star dell'umanità Chi ci vuole matta Eh 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 Ok E non è più le gambe Posa Dopo Sarai una star Puoi davvero proteggere l'umanità? Oh 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 Nonostante Nonostante tu sia ferito Hai posito drammaticamente L'evidence applaude Oh guarda questi rating Questo è la Ah questi sono più Sono Questi sono i più grandi Sono i più grandi spettatori Che io abbia mai avuto Abbiamo raggiunto Ah la chiamata Un fortunato Un fortunato Un fortunato Spettatore avrà l'occasione Di parlare con me Prima che io lasci L'underground Per sempre Vediamo Chi chiama per primo Ciao Sei in tv Che cos'hai da dire Riguardo a questo Il nostro ultimo show Oh Ah Ciao Metta Ho veramente amato Guardare il tuo show La mia vita è molto Neiosa ma Guardandoti Sullo schermo Hai portato Eccitazione La mia vita E Non posso dirlo ma Immagino che questo C'era l'ultimo episodio Mi mancherai Metta Ton Oh Non Non mi ho in mente Di parlare per così tanto Oh No aspetta Aspetta Ah Hanno già riagganciato Prenderò un'altra chiamata Metta Ton Il tuo show Ci ha reso così felici Metta Ton Non so cosa guarderò senza di te Metta Ton C'è un buco a forma di Metta Ton E il mio Metta Ton E il mio Metta Ton Fa cuore Oh Io Vedo Tutti Grazie di mille Figliolo Forse Potrebbe Essere meglio Se io stia qui per un po' Gli umani hanno già i loro star I loro idoli Ma i mostri Hanno solo me Se me ne andassi Il sottosuolo O l'Hunder Grand Chiamato come vedete Perderebbe la sua scintilla Lascierei Un vuoto che non potrebbe Essere mai riempito Così Penso che dovrò cancellare il mio grande debutto In parte Hai provato di essere molto forte Forse Perfino forte da poter passare Asgore Sono sicuro Che tu sarai in grado di proteggere l'umanità È tutto per il meglio Comunque La verità è Questa forma di energia Il consumo di questa forma di energia è inefficiente In un po' di momenti Finirò le batterie E Beh Sarò bene Uccidili tutti Stendili tutti Bellezza E tutti Grazie mille Siete stato un grande pubblico No C'è solo finito le batterie Giusto Sta bene Metatron Io Sono riuscito a aprire la porta Dove Tu e state Oh mio Dio Metatron Metatron Sei tu Grazie a Dio Sono solo le batterie Metatron Se tutto mi fosse andato Io 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 avrei Io Intanto Ehi Nessun problema Sai È solo un robot Se l'avessi rotto Io avrei potuto comunque Costruirne un altro Perché non vai avanti Alphys non l'avrei mai rotto su via Ah c'è un punto di sabotaggio qua Non mi ricordo Perché in questo caso salvo No non posso più Io scherzavo Oh Alphys è tornato su Scusa riguardo a prima Ehm Continuiamo Oh Ma continuo anche indietro No non posso tornare indietro Quindi se Tra poco incontrerei Asgore Devi essere Devi essere Davvero eccitato all'idea No? No Ehm Mi vuole uccidere Tu Finalmente Avrei finalmente Potrei finalmente Tornare a casa Asgore 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 Intanto Io Stavo sul bel Dio Dio Ehm Ehm Non posso più farcela Io Ti ho mentito Cosa? Un'anima umana da sola Non è abbastanza forte Da attraversare la barriera? Richiede almeno È un'anima umana È un'anima Di un mostro Se vuoi andare a casa Dovrei prendere Quest'anima Dovrei uccidere Asgore Mi spiace No No Oddio C'era boccato malissimo No Ragazzi No 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 Quanto in alto Siamo andati Ok No Pensavo ci fosse bugato il gioco Ok Oh Un punto di salvataggio Ascensore del castello Ma Ragazzi Per questo episodio Abbiamo sconfitto Metatron E abbiamo scoperto Veramente una verità scioccante Quindi ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo episodio Se vi è piaciuto questo momento Mi piace Iscrivetevi E